Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Raimondo Todaro è nato a Catania il 19 gennaio 1987, ma ha vissuto sino a 16 anni a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, dove si era trasferita la sua famiglia. Ha iniziato a ballare a 5 anni, insieme al fratello Salvatore. Si è formato studiando con maestri di danze standard e latino-americane, e durante la sua carriera ha partecipato a diverse importanti competizioni internazionali. Ha vinto il suo primo campionato italiano a 9 anni, nella categoria Junior, ha partecipato a 5 campionati del mondo, conquistando un secondo e terzo posto. È stato 18 volte campione italiano di ballo nelle varie discipline. Il ballerino Raimondo Todaro si è raccontato al settimanale di più raccontando la verità sulla fine del matrimonio con Francesca Tocca. Il protagonista di Ballando con le stelle ha messo i puntini su lei, chierendo che non c'è stato nessun tradimento. La coppia si è mollata consensualmente, poiché ha capito che, dopo anni di ardore, erano diventati più come fratello e sorella che moglie e marito. La decisione unanime di non rivelare nulla a nessuno, se non familiari ed amici, ha creato però del gossip non veritiero, arrivando a parlare di un triangolo amoroso inesistente. Todaro si è anche espresso poi sulla relazione anzitempo terminata tra l'ex moglie e Valentin Dumitru, sorprendendo tutti con le sue parole. Su quella storia non voglio esprimermi. Quello che auguro a Francesca è di essere felice, se lo merita. Ora le nostre strade sentimentali si sono separate, ma il bene che ci lega e resta immutato. Francesca è una donna meravigliosa.